Per me è scassato. Per me è scassato. Come si è spaccato fuori. Questo è un testa di calcio. Fissare la nuova scheda. Svolta via. Svolta via a sola. Questo è tra l'altro. Questo si è statata comunque. La scheda video staccata di brutto. Eccola qua piegata. Non so se ha sbattuto sulla scheda madre in qualche modo. Sto rovinando. Rovinandola. Qua che parte. Ma sembra perfetta. C'è anche una scheda qua. Che vuoi fare. Non mi ha dato le antenne. Questa è la ssd. Ma come cazzo là. Ma fissalo. Ma cazzo. Ma è difficile fissare una cosa. Questo è venuto a via da sola. Infatti manca un pezzo qua. Adesso che vedo. Manca il pezzo del PCI Express. Manca il fissaggio. Funziona lo stesso. Immaginavo di vasso a prezzi. Eristico. Grazie al final.